I donnalisi sono sommersi di regali, felpe, calzini, cacciotte di formaggio, vino, cremine per la mia pelle secca, dice Edoardo, donna Maria. E perfino due chili di pane e una magnifica spazzola per i loro cagnolini. Insomma, i fan non sanno più che cosa mandare ai loro beniamini. Le persone sono diventati pazzi per i donnalisi, tanto che ogni giorno arrivano tanti regali per loro. Un pochino di roba, dice Edoardo, perfino una Nintendo Switch con tutti i giochi, tanto che Antonella subito gli dice Io ti voglio battere a Super Mario. I ragazzi, dopo il grande fratello, sono amatissimi e corteggiati da tutti i loro numerosi fan, Tanto che li coccano con un numero di regali e regalini, contentissima ovviamente, ringrazia tutti, dicendo con amore, ma voi siete pazzi!